Sì, sicuramente è una partita più importante delle altre perché sappiamo cosa vuol dire per i nostri tifosi, per la nostra gente, quindi sicuramente ci dà qualcosa in più, poi chiaramente porta tre punti come tutte le altre e quindi dobbiamo pensare a ottenere appunto il risultato come in tutte le altre partite. Che Fiorentina le aspettate? Una Fiorentina che vuole vincere perché comunque sta facendo magari un po' di fatica quindi sicuramente si vorrà riscattare, però anche noi siamo in quella situazione quindi ce la giochiamo alla pari. Sì, si sta dicendo che noi facciamo un po' di fatica in attacco in fase di finalizzazione ma tu credo che in attacco ti fa anche un grande mazzo per il lavoro che fai, avverti anche tu questa cosa o c'è forse delle componenti, un po' di sfortuna, ripenso a Riccardo, a Torino se gli ricavano la notte per la palla la butta dentro, in me c'è forse un po' di componenti anche non di fortuna in questo momento. Sicuramente, anche quella, però non ci arba mai parlare troppo di sfortuna quindi dobbiamo sicuramente migliorare qualcosa sotto tutti i punti di vista e anche su quello, anche di tornare a essere pericolosi come lo eravamo prima perché magari nell'ultimo partito siamo stati un pochino meno brillanti quindi dobbiamo ritrovare le nostre giocate offensive e secondo me manca solo quello perché per il resto comunque c'è tutto. Senti, quando avete la Fiorentina, che impoli ti aspetti? Beh, come ho detto abbiamo assolutamente voglia e bisogno di vincere quindi puntiamo a quello, puntiamo a fare una grande partita puntiamo a dare tutto e a chiudere il discorso salvezza con questa partita penso sia bello per tutti. Ma non funzionerebbe come lo vede, personalmente il derby? No, no, sono abbastanza tranquillo non ci voglio pensare di tanto perché porta via energie nervose quindi sono tranquillo, poi piano piano si prepara la partita ma come tutte le altre partite alla fine, sicuramente questa è bella da giocare. Ma da attaccante non lo vive? La vivo che... come le altre? E che difesa s'aspetta? Ne, difesa abbastanza forte perché comunque i giocatori ce l'hanno però non abbiamo assolutamente paura abbiamo affrontato la Juve sabato scorso e ce la siamo giocata lo stesso quindi ce la possiamo giocare con tutti veramente. Ma c'è l'intima di parlare di Juve, c'è il confronto con la Juve? No, 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 è per dire che comunque la Juve è la squadra più forte quindi ce la giochiamo con tutti. Internamente allo spogliatore c'è cosa che state dicendo in questo situazione, c'è la Maccarone che ha detto io non li smettere voglio vincere in derby lo sto dicendo ai miei compagni lo sto ripetendo Sì, sì, sì lo spogliatore è carico ma tutti i ragazzi sanno cosa vuol dire cosa vuol dire per noi giocare questa partita e cosa vuol dire vincere questa partita soprattutto appunto per i nostri tifosi quindi vogliamo riuscirci perché appunto sentirebbe nella storia sono cose che difficilmente si dimenticano queste quindi lo sappiamo e daremo sicuramente il massimo poi il campo dirà la sua se ne parlerà poi a fine partita però sicuramente dobbiamo dare il 100% forse anche di più Senti, due cose la prima è questa rispetto all'andata qual è l'errore che non dovete commettere? perché all'andata ha avuto il vantaggio di due gol e poi ci fu l'evento alla fine partita? Sì, lì in quella partita secondo me abbiamo fatto uno dei primi tempi più belli di quest'anno quindi sicuramente l'errore lì è stato farsi riprendere in quel modo in pochi minuti mi sembra, non so, in minuti però ci siamo fatti riprendere un po' ingenuamente però poi siamo stati comunque bravi perché l'inerzia della partita era cambiata siamo stati comunque bravi a reggere i loro attacchi quindi l'errore è quello che se andiamo a vantaggio questa partita si deve tenere fino a un fondo stavolta la seconda quadra è su Federico Bernardeschi perché tu sei più grande di lui ovviamente però avete vissuto un percorso simile lui delle giovanili della Fiorentina fino alla prima squadra con l'Empoli quanto è bello per vedere che i giovani riescono a fermarsi in prima squadra l'Empoli è molto facile magari in altre realtà è molto più difficile e poi riescono ad arrivare anche in una settimana maggiore sono contento per lui perché è un giovane italiano e non tutti riescono in queste grandi squadre comunque a emergere lui ci è riuscito in poco tempo alla fine perché è stata una sorpresa per tutti per me no perché lo conoscevo ci ha giocato contro a Crotone sapevo benissimo cosa poteva fare insomma non c'erano dubbi per me però chiaramente la gente non lo sapeva e sono contento per lui come ho detto è difficile per un italiano in quell'ambiente lì perché è la realtà alla fine tu a livello della giovanili hai giocato tantissimi derby a Fincina Empoli c'è magari un ricordo particolare una partita che ti ricordi con la partita che ti ha detto? ce ne sono mille ce ne sono tanti ricordi potrei dire mi sembra quarti di finale del Viareggio ma ne potrei dire tanti altri sono stati tutti dei belli scontri abbiamo sempre dato tutto sia noi che loro ci siamo divertiti anche con Michele e con Camporese ci ha giocato contro e ci prendiamo in giro tutt'ora quindi insomma è stato bello ne ho fatti veramente tanti perché da quando c'ho 10 anni è abbastanza contro di loro abbastanza quindi la speranza è di rifarlo in prima squadra certo sicuramente la speranza è quella sul monitor delbi c'è un naso bianco dietro c'è una scritta c'è una scritta molto bella che andrà a ricevere questo delbi io personalmente la trovo una cosa fantastica perché poi il delbi è la forza ancora di più mi piace dare una parola anche da parte tua su questa cosa è una bella iniziativa so che Mancalone e Pasquale sono andati insieme niente ci sono per tutti ci sono per tutti e invito tutti i tifosi a mettere comunque questo naso bianco come? come? e donare per il sì sì certo certo donare per il mayor però insomma invito tutti i tifosi di essere uniti almeno per questa cosa poi faranno loro il resto